Un uomo di 30 anni, Angelo Pio Campolongo, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel centro abitato di Ciron Marina, poco dopo la mezzanotte di venerdì 19 luglio. La vittima, originaria di Cassano all'Oionio, ma residente a Ciron Marina, stava percorrendo in sella la sua moto via Libertà, quando per causa in corso di accertamento all'incrocio con via Kennedy, si è scontrato frontalmente con un'utilitaria condotta da una donna del luogo. Lo scontro è stato violentissimo, Campolongo è stato sbalzato dal mezzo del suo corpo e finito a quasi 20 metri dal luogo dell'impatto. Il giovane che indossava il casco è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Ciron Marina per i rilievi al fine di stabilire la dinamica dell'incidente.